Ciao 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 Sono Marco Sai Combina il nome Qua parliamo Di coding qui Per te partono Javascript Lo sai Ti fa volare Entra nella chat Con me Imparo e divertiti Combina quindi va Combina quindi va Su Twitch c'è una magia La programmazione sarà La più facile Oh sì E vuoi che tuoi eroi Su Twitch c'è una magia La programmazione sarà La più facile Oh sì E vuoi che tuoi errori Sting e variabili Ogni linguaggio ha storie Che ne raccontiamo qui Framework e liberi Di codice si vive Ogni stream una scoperta Combina quindi va Qui insieme a noi I bit che volano Compilando un mondo nuovo Dove tutto è possibile E tu sei E tu sei E tu sei Rive Te bugga i tuoi errori String e variabili Ogni linguaggio ha storie Che ne raccontiamo qui Fremor che librerie Nel codice si vive Ogni stream una scoperta Compila quindi va Grida e insegna a noi I beat che volano Compilando un mondo nuovo Dove tutto è possibile Compila quindi va Su un beat che volano Dove tutto è possibile Scusate per la Perché è questa cosa Sempre bianco La sigletta La sigletta è un momento di divertimento Questa intelligenza artificiale Ci farà Chi è che scrive Ci farà dei grossi problemi Mi scrivo un messaggio Ancora a quest'ora Abbiamo una nuova band È una band Un po' improvvisata ma È stato generato Con intelligenza artificiale Ovviamente perché si sente anche Dal testo piuttosto Come dire Ciao Muzio Ciao Marco Ciao Silvietta Ciao a tutti Mi sembrava che ci fosse Un po' di gente Già collegata Mi sembrava giusto fare Come dire Una partenza Con questa Chiamiamola stronzata Perché non si vede mai La chat Che l'ho provata Prima di partire E si vedeva Non capisco perché adesso Non si vede Che si vedeva proprio Un secondo fa Bah Allora Adesso Devo arrivare Al capo di questa Allora Refresh Quando la scena L'invento attiva Vediamo 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 se Cambia qualcosa Perché prima L'ho provato Ma Guarda sul Multimonitor Che hai Non capisco Non capisco Perché Si vedeva tutto Bianco Che fino a Un attimo fa Si vedeva Correttamente Cioè Il fondale Bianco Quello Ci sta Però L'altra volta Era spostata No no Ma l'ho riposizionata L'ho testata Poco fa Però Per qualche motivo Non Si inchioda Vabbè Passerò a qualcosa Di meglio Si l'altra volta Si ma l'ho riposizionata Infatti L'ho proprio Ritestata Scrivendo messaggi A caso Vabbè Che ti devo dire Rimane Non so Come mai Si comporta Così Però Ora Quella minimal Mi sembra Che vada Quanto meno Ok C'è quella In alto Però Dovrebbe andare Anche questa Anche se Non capisco Aspetta Che non vorrei Aver fatto Un No Niente da fare Posso fare Un refresh Manual Si vede Si vede Tutto buio Ma Che diavolo C'ha Shutdown When not visible Ok No Read Access Basic Questo non dovrebbe servire Rinfresca la cache Refresh Provo tutti i comandi Ma Non succede niente Quindi Niente Si vede che Si vede che deve andare così Che devo dire Cambierò il widget E basta A questo punto Non si vede Non si vede Niente Niente da fare Faremo senza Tanto ci passiamo poco tempo Su questa schermata E quindi Non è un problema Appunto Debug I tuoi errori I bit che volano C'è proprio il test Più banale No è fantastico Ci sono alcuni Come si chiama Sumo Mi sembra Si chiami Uno dei siti Non ho usato quello Ma al momento Non mi ricordo Come si chiamava Perché una sera Ci siamo messi a fare Questi esperimenti E quindi Adesso gli faccio Generare Questa Questa Chat Un po' Vediamo cosa ci salta fuori E quindi E quindi nulla Ho detto Generami Voi gli dite proprio il prompt Generami una canzone In questo stile Che parla di questo Quest'altro Non si può nominare cantanti Non si possono mettere Delle cose Che teoricamente Hanno il copyright Lui ci pensa un po' su E poi dopo produce Fondamentalmente In output Produce testo E anche la musica Che gracchia un pochino Però alla fine Non Come dire Non è abbastanza A volte Fa delle rime un po' forzate La metrica Non è il massimo Però Cioè Per Per una cosa A pagamento Si può scaricare Però io Uso un programma Di registrazione Me l'ho registrata E quindi Tanto il mio Non è un utilizzo Fatto quello E poi E poi basta Non è che mi metto Di affare Però Come dire La Carina Comunque Questa cosa Tra l'altro Ho visto Adesso Non so se ce li ho qui Perché li volevo Condividere E Anche questa È una cosa Abbastanza Buffa Forse questo Forse anche Dell'audio Aiuto È partito Anche l'audio Ma Adesso vado Sullo schermo Così Lo vedete In In grandito Passo Alla Campus screen Questi sono Filmati Con Gordon Ransi Generati Dall'intelligenza Artificiale Abbastanza Abbastanza Un po' Il volume Sì Vedi che hanno Un po' Cosa Un po' Strana C'è roba Un po' Strana Questi Spaghetti Sto È sorriso Sì Spatela anche La faccia Di Gordon Che è Un po' Si piega Spagna Subisce io da te rido cercando di immaginare il prompt di questa roba e mi piacerebbe capire cosa diavolo come gli hanno fatto incinerare queste cose sto tritando carne con un numero bello con aranci mariachi lo vedo molto però questo è un spuglio di cose probabilmente di cucina che vengono riassemblate in contesti totalmente improfonibili poi c'è gente strana quello con la polna scimmia la scimmia con il cappello e certi effetti veramente particolari quello il cano il violino queste pattatine che si moltiplicano i gliccini che che crescono la testa ha delle proporzioni un po' strane però non so come è partita questa cosa quindi se uno si vuole divertire diciamo che all'AI può far fare un po' quello che vuole però una roba siccome l'ho scaricato l'altro giorno quindi l'AI fa ancora un po' dell'imperfezione però più o meno direi che ci stiamo avvicinando come dire vabbè a parte le le cazzate passiamo ad altre cazzate io sono due settimane che non mi faccio vedere nelle live ma c'è stato state due settimane un po' impegnative perché ho dovuto preparare ne avevo già parlato quindi non non sto lì a farci troppo melina un webinar su FairDB per Job in Tech che è una conferenza online che c'è stata un paio di settimane fa un paio di giovedì fa dove abbiamo visto appunto FairDB c'era ad escriversi poi forse secondo me Muzia c'era perché mi ricordo qualche nome di averlo visto in chat anche se il tempo è sempre tiranno e quindi mai come sabato però è stato tiranno infatti poi volevo passare a quell'argomento non il link ve l'avevo già fornito ma se andate a vedere nella live precedente su youtube c'è come dire c'è un piccolo c'è un piccolo riassunto c'è anche i link però al momento loro hanno messo praticamente il portale l'evento a pagamento cioè per vedere i filmati online il replay tutti quanti c'è un obolo di 20 euro che sono non sono né pochi né tantissimi ma neanche pochissimi quindi se uno è interessato poi presumo che col passare del tempo lo pubblicheranno anche niente a dire anche sul su youtube aperto a tutti ecco quindi probabilmente siccome c'è la piattaforma online che comunque i suoi costi ce li ha le persone anch'io tra l'altro poi qualcosa mi mi riconoscono e io pensavo di no pensavo fosse tutto a babbo morto ma diciamo visto che hanno detto facci poi avere i riferimenti e ho detto ok pensavo che fosse gratuitamente quindi non posso neanche lamentarmi quindi non c'è niente di di ecratare un pochino per si fa sempre un po' per condividere più che per altro quindi l'obiettivo è anche quello però tutto sommato ci sta quindi anche come riconoscimento dell'impegno che le persone lì ci sono stati iscritti una sessantina di solito c'è un drop più o meno di un buon 30-40% perché poi essendo magari che l'iscrizione è gratuita molti si iscrivono poi o si dimenticano oppure non gli arriva il link eccetera quindi mi rendo conto che sto girato così ho il collo che sembra avvolto sembra con i cartoni animati dove c'è il collo che fa un giro e ho delle pieghe che normalmente non ho ma vabbè e lo posso testimoniare cosa su cui invece al momento non c'era il replay ma forse verrà pubblicato perché sono state fatte le riprese come poi avete probabilmente visto dal titolo della live è il The Fest che abbiamo fatto a Modena sabato e mi permetto di dire grandissimo evento quindi devo dire questa cosa perché è stato impegnativo ma anche molto divertente e molto soddisfacente da un certo punto di vista perché ci sono state tante persone tante affluenze l'organizzazione è stata ottima i disguidi come dire non non ce ne sono stati da da un certo punto di vista e quindi tutto si è svolto per il meglio per cui ho pensato facciamo questa live per raccontare un po' la cosa perché in giro poi sono stati fatti dei post hanno caricato le foto e quindi c'è un po' di elettroscena io non ho visto tutti gli eventi e tutti gli speech sia perché da un lato dovevo ero dagli organizzatori avevo anche il mio talk da fare e quindi non sono stato come dire attento un po' un po' a tutto salvo le cose quindi importanti per lo svolgimento però da quello che ho visto in giro anche dai feedback c'è stato molto molto apprezzamento sia per l'organizzazione sia per l'offerta anche dagli stensi sponsor per cui ci possiamo ritenere soddisfatti è forse uno degli eventi con più persone più in assoluto poi ho un post con qualche numerica qualche dettaglio però diciamo che grosso modo si sono iscritti in più di 400 persone il drop è stato meno del 20% alla fine ce n'erano più di 350-360 quindi c'è stata una buona affluenza tra registrati poi anche qualcuno anche tra gli organizzatori magari non si è non si è registrato non ha qualche numero ce lo siamo perso però comunque più di 350 più persone è un è un gran bel risultato mi viene da mi viene da dire quindi non possiamo che essere che essere contenti io adesso recupero un pochino di di post magari da farvi vedere così li uso anche come cerco The Motion vado a prendervi un po' come dire è presto detto aspetta che li metto di qua così vado su LinkedIn le notifiche come dire di tutti i post che ci sono stati in questi giorni sono tutti legati al al The Fest quindi vado come dire vado a vedere direttamente questi post e li trovo e li trovo praticamente subito quindi ve li carico così vabbè adesso lo vado a caricare questo è il mio questo è il post questo è quello del patron e quindi vi faccio vedere un po' tutti giustamente non state vedendo niente ma mi state solo sentendo perché non ho la scena giusta quindi vado vado nello screen e mi bevo un goccio d'acqua perché oggi sono altissima pulissima lauretana non ha fatto la rima allora no che si è fatto di bello qui c'è c'è un post carissimi membri del team qui c'è una riflessione diciamo di Davide Muzzarelli che è una persona veramente io non riesco a capire un paio di qualità veramente straordinaria di riuscire a gestire delle cose e non lo vedo mai in panico sempre tranquillissimo io veramente lo stimo un sacco perché non so come come fa perché l'evento diciamo tutta la cosa è nata da le community modenesi gli sviluppatori tra cui c'è anche Modena Full Stack di cui insomma main organizer potremmo dire appunto Davide che assieme a un comitato come dire anche di persone che poi provengono dalle community c'è anche sul sito ufficiale sono elencate tutte me le ricordo tutte nei momenti in cui devo andare a pescare workshop vedi il programma c'è la pagina posta qui ci sono gli sponsor communities eccole qua c'è il GDG il Modena Full Stack a cui si è affiancato ed è in partenza anche Reggio Emilia Full Stack sono due meetup che organizzano appunto degli incontri dei meetup delle cene con birra spesso anche offerte da uno sponsor che era anche sponsor dell'evento poi vado sotto così ve li faccio un po' vedere legate allo sviluppo dove di solito c'è una mezz'ora un'oretta di talk su qualche argomento che qualcuno vuole portare e poi si mangia si beve assieme fondamentalmente quindi c'è il gruppo Flutter Modena c'è il gruppo Conoscere Linux che aveva un banchetto molto carino con un paio di quiz sull'AI riconosci i gatti reali foto di gatti reali foto di gatti generate dall'AI quindi tutte le community si sono un po' presentate quindi diciamo Google supporta direttamente organizza con questo brand del The Fest questi eventi che si tengono non solo in Italia ma in tutto il mondo fondamentalmente dove ci si incontra tra sviluppatori c'è un talk c'è una serie di cose più o meno più o meno simili il nostro quello che abbiamo organizzato è stato abbastanza grande io ho partecipato al gruppo su Telegram delle persone che fanno parte di queste community che stavano organizzando tra chi effettivamente era parte dello staff chi era effettivamente organizzatore quindi molto più coinvolto e come dire le chat i messaggi che ho visto girare mi hanno fatto capire anche quanto sia complicato effettivamente organizzare un evento di questo tipo ora mi spiego come mai quando vado un po' cioè in realtà me l'avevo già immaginato però lo vedo dal l'ho vissuto in prima persona per la prima volta quando ci organizza diciamo qualche del fideio qualche tdfcon per dire quelle a cui partecipo come mai alla fine lo staff è sorridente è contento ha quella espressione di relax ma anche quella faccia che sanno che stia per crollare da un momento all'altro perché organizzare questo tipo di eventi non è assolutamente banale quindi ho visto tutti i messaggi tra il sito contattare gli sponsor mandargli una sorta di contratto la fattura i pagamenti ordinare le cose da stampare la location le persone da coordinare gli speaker da informare c'è tutta una serie ho visto girare tante cose che ho detto qui o faccio qualcosa anch'io oppure faccio una figuraccia adesso a parte gli scherzi io veramente non mi capacito della qualità e dell'organizzazione delle persone che effettivamente hanno lavorato benissimo a questo evento cioè un gruppo veramente affiatato quello che ho fatto io limitatamente è stato venerdì dare una mano nell'allestimento perché c'è una location che si chiama laboratorio aperto Modena esatto che è qui che ha anche un suo sito spero di non aver sbagliato il sito l'ho sbagliato sicuro laboratorio ah perché mi ha troncato aperto Modena ok eccolo qua che è una sorta di ex stabilimento una fabbrica si produceva energia a quanto pare dove eccolo qua qui c'è anche la parte del death fest dove si tengono eventi un sito molto grande ma poi vedrete anche qualche foto che è stato preso per allestire gli eventi quindi io venerdì sono andato qui arrivava un po' di materiale da parte degli sponsor quindi cosa abbiamo fatto abbiamo iniziato a spostare un po' i tavolini abbiamo c'è anche qualche foto che forse adesso che ci penso come foto racconto è più è più incisivo non mi ricordo se ho il link o meno però se vado da vedere quelli condivisi con me probabilmente ci sarà eccolo qua forse ne sono state caricate anche delle altre che ci sono tutti i contributi delle varie persone bellissimo come queste probabilmente tra l'altro le metto in ordine cronologico quindi è molto molto comodo come questo è l'esterno della location questa è la location sembra piccolina ma in realtà se si vede dalle foto qualche proporzione quindi questo è un po' l'esterno questa è una delle aule tra l'altro penso sia proprio quella dove ho fatto io lo speech allora le aule già che man mano che passo sulle cose vi do i dettaglini un pochino più più simpatici le aule avevano i nomi tigella lambrusco tortellini e poi balsamico quindi erano avevano come dire battezzate con i nomi delle cose alimentari tipiche chiaramente del territorio infatti era partita anche un po' la diatriba cappelletto tortellino ma è una diatriba dove di solito mi inserisco solo per litigare su quanto mangiarne ma per il resto non mi tocca minimamente potremmo dire questa è una delle sale che è stata allestita abbiamo tolto ovviamente questi tavoli queste sedie che erano quelle un po' più carine le abbiamo messo a disposizione degli sponsor tra l'altro finezza tutte regolate sull'altezza massima perché fossero tutte alla stessa altezza quindi io ho imparato delle cose vedendo questa dico vedendo perché ho fatto qualcosa ma non sono quello che sicuramente ha fatto di più qui siamo noi ah questo è il video quindi che allestiamo diciamo le varie qui è proprio agli inizi quindi ci sono io che tra l'altro ho fatto delle foto che sono completamente sudato con questa maglia la location è bella grandicella è abbastanza grande che iniziavamo appunto a mettere i badge nelle loro nelle loro collanine da mettersi al collo qui ci sono ancora poche sedie quindi dopo ce ne sarà più del doppio c'è un soppalco quindi ci sono sono svariati ci sono svariati punti i pannelli sonori che erano qui li abbiamo spostati perché questa location diciamo è bella perché è molto grande tiene un sacco di persone al bar puoi farci il catering ha delle salette molto servita cioè carina però fa molto rimbombo quindi quello è forse un po' il suo difetto anche se insomma io qualcosa ho seguito quindi non ci sono rimasto così non mi ha dato così fastidio questi sono appunto i ragazzi di Flutter Modena che mettono giù il cartello ragazzi giovanissimi ma veramente in gamba devo dire molto molto in gamba questo è venerdì quindi il giorno prima dell'evento qui c'è la scaletta che porta appunto al piano superiore dove ha tenuto ad esempio il workshop Morro Linux che sicuramente più di uno di voi seguirà su YouTube filmati su Linux abbastanza come dire interessanti tecnicamente parlando ma alla portata quindi io purtroppo non ho potuto seguirlo ma il canale lo seguo ogni tanto guardo qualcosa e quindi qui c'è se non mi ricordo mali nomi Elia Carmine Francesca quindi che sono tre dei ragazzi che hanno allestito quindi ultra giovani dietro vediamo i pacchi dell'acqua perché nelle mie zone c'è c'è la tetrapacca che avrete sicuramente sentito nominare che è quella che fa tutti i brick quindi questa non mi abiterò mai all'acqua in brick perché mi sembra sempre latte mi dà sempre un effetto strano quindi qui i ragazzuoli che iniziano un po' a spostare le tv ovviamente fotodiritto Maurizio Ipsale che è del GDG di Modena che organizzano eventi su diciamo principalmente su tecnologie google ma non solo anche questo assieme a Davide uno dei main diciamo dei motori del gruppo degli organizzatori dello staff perché hanno fatto un lavoro e qui c'è la sala balsamico questa forse una delle mie non so le mie sono forse le peggiori perché col telefono e poi ne mancano alcune secondo me qualitativamente c'è qualcuno che faceva foto con delle macchine abbastanza che ha detto che prima deve passare da Adobe Lightroom qui in Adobe Lightroom questa è la chiaramente con il formato del tag la sala balsamico e il suo palco con i workshop c'erano dei workshop posti limitati 25 posti addirittura ad esempio per Morlo Linux c'erano 75 pronotati se non ricordo male la cifra che mi hanno detto a fronte di 25 posti quindi era più l'overbooking di quelli però effettivamente qualcuno ogni tanto provava a imbucarsi lo stesso infatti ho fatto per un paio di volte assieme ad altri dandoci il cambio il cane da guardia perché nessuno salisse di quelli non come dire non autorizzati ovviamente per non andare a disturbare perché poi qui ci sono le sedie pronte della sala Lambrusco si Moro Linux è molto seguito quindi workshop tra l'altro mi sembra su docker o su alcune cose abbastanza alla mano questa questa è una foto mia perché ha riflesso quindi io non riesco a fare foto decenti qui stiamo iniziando a fare le borsine quindi qui siamo ancora come dire nella fase preparatoria perché ovviamente ogni borsina andava aperta ci va il materiale dello sponsor ci va l'adesivo la penna il blocco note i coupon per cos'è la tigella giusto scusate ho saltato ovviamente la spiegazione la tigella ve la faccio anche vedere tigella diciamo che a Modena ma anche a Reggio si dice così o crescentina è un disco di pasta che generalmente fatto con uno stampo adesso magari c'è anche la preparazione che viene tagliato quindi c'è l'impasto diventano dei dischi vengono fatti nella tigelliera e quindi sacrilegio tigelle e gnocco fritto top esatto anche gnocco fritto è l'erbazione è roba tipicamente delle nostre parti e diciamo diventano questi dischi le tagli di solito le vai a farcire ad esempio con salumi con formaggio o il top il lardo lardo di colonnata dentro le tigelle con tipo un salume o una pancetta è una roba una roba statosferica quindi però le puoi riempire ovviamente come ti pare qui molto spesso vino e tigelle è una roba è una combinazione di quelle che almeno nelle mie zone quindi queste sono appunto le sale sala tortellino la sala tipo pancake beh il pancake è più spugnoso queste sono più sono più in un certo senso come viene a dire non sono lievitate sono più sono morbide ma non sono così alte però sì diciamo la forma è quella ricorda quella però mentre il pancake magari è dolciastro quello è un impasto più salato più dolce ma eventualmente cercatele sicuramente supermercato ci sono perché comunque le vendono anche l'ambrusco ovviamente è il vino della zona il balsamico l'aceto balsamico che è di Modena e il tortellino direi che non ha bisogno di presentazioni qui ci sono io che ho chiesto di non essere fotografato perché quel giorno spostando dei tavoli questo era come ero ridotto ho detto almeno poteva non pubblicarle queste foto l'impasto è vicino a una piadina ma gonfia sì esatto è una piadina però un pochino più gonfia è un po' più alta però ovviamente è fatta a dischetto perché sono completamente sudato porca miseria sono impresentabile è una foto che fa che fa schifo però effettivamente è almeno una dimostrazione una prova che quantomeno qualcosa ho fatto per fortuna che quel giorno lì ho disdetto la palestra perché se no come dire sarebbe stato sarebbe stato un dramma alla sera andare il lavoro nobilità sì però la foto quella pezza ovviamente no tra l'altro localizzata nel almeno almeno non sono come dire comunque no grazie per il supporto e quindi infatti vabbè me la sto infatti ridendo sto ridendo proprio per quello ho detto giusto passare le ore a vedere la gente che lavora fantastico c'è l'altro ragazzo dello staff dove chiaramente ci divertiamo da questo punto di vista infatti qui stavo appunto dicendo non mi fare questa foto che sono messo così infatti poi dopo abbiamo fatto la foto da vicino ho detto almeno mi chiudo le braccia e mi metto così non si vede questo è Davide non mi ricordo il nome di questo ragazzo perché l'ho giunto su LinkedIn stamattina o ieri mattina quindi l'ho letto ma ho un vuoto di memoria perché sono veramente tanti questo è un po' lo schermo che con il keynote pronto il bar adesso vado un po' più veloce fuori c'era anche un bar che si chiamava il caffè con a disposizione questa dovrebbe essere la mia foto che ho fatto con il colpo d'occhio della location dall'alto dove effettivamente quindi c'era una sala qui in fondo una qui all'inizio questa sala grande e qua sopra dove sto facendo la foto praticamente è il suo palco e quindi ci sono le magliette pronte questa è la zona del suo palco con questi robot particolarmente costosi noi avevamo il mandato di non farli toccare ai bambini perché questo è Marco Arena che mi ricorda il nome perché magari l'avrete anche già visto forse ho sentito perché sviluppa mi sembra il C++ come il main language però un'altra cosa che ha lanciato non so se l'ha lanciata lui penso di sì penso di non sbagliarmi ovviamente dopo tutte le informazioni era meglio se le controllavo prima ma una cosa che si chiama Coding Gym è una serata organizzata dove le persone si trovano utilizzando un sito risolvono assieme tipo per programming un problema quindi è tipo un catà del codice risolvono assieme un problema con un linguaggio che mi sembra sia anche a scelta e quindi passano la serata fondamentalmente a programmare facendolo tutto il giorno uno potrebbe dire che bello anche alla sera no sono eventi interessanti si sono tenuti sempre nel modenese penso che però ci sia un'espansione anche in altre in altre zone in nord Italia forse mi viene in mente o Verona o stavo per scrivere male Coding Gym comunque c'è il sito codinggym.org Coding Collaborate dove si si fa qualcosa assieme la gente arriva viene diciamo fatta sedere c'è una challenge e si risolve la challenge assieme si fa la retrospettiva e poi finisce la classica birrozza ecco qui c'è una mappa quindi è una cosa che al momento come dire mi sembra tipicamente italiana ma con già delle location con succursale a Milano ecco a Padova che me lo ricordo c'è una location talent lab e a Modena nel nella community di conoscere Linux e Maked Modena organizzano questa quindi la cosa si sta già un pochino spostando Castelfranco Veneto 23 ottobre quindi poi penso che in qualche modo ecco sia il founder quindi non vi ho detto una non vi ho detto una cazzata quindi sono ovviamente c'è uno staff probabilmente per ogni zona quindi può essere che magari se qualcuno può essere interessato come al solito se arriva a Roma è più giù il deserto però è un format direi c'è un survey launch quindi secondo me sarà una cosa magari un google no c'è type form qualcosa per poter organizzare questa cosa anche in altre città quindi non penso sia come dire geloso del format un'idea carina per cui insomma ci sta ve la segnalo proprio perché mi è venuto in mente e quindi che ha tenuto un workshop anche lui quindi questo è un dettaglio del cartellone la sala balsamico questo è uno degli aggeggi che erano che è sulla location c'è questa location questo specie di carrello alto che probabilmente serviva per spostare qualcosa non lo so che è rimasto con questo dettaglio installato qui in alto secondo me scarrella anche volendo quindi guardavo c'è il gatto che si lamenta qui abbiamo le simpatiche è arrivato il mio aiutante intanto dica tutto che succede sono in live vuoi salutare è un sì o un no dai vieni a salutare dai vieni a salutare ehi cosa stai facendo dai vieni a salutare guarda ti metto anche ti metto anche grande guarda ti faccio vedere c'è il mio aiutante qui c'è la coda che hai finito di spiegare il mio borsello vieni oh guarda fatti fatti ammirare nel tuo splendore nella tua magnificenza di gatto grasso ti metto dietro anche te adesso ti porto in palestra ti faccio fare faccio fare gli esercizi anche a te di cosa hai bisogno dimmi tutto dimmi tutto anche te hai bisogno di qualcosa scrivi in chat vieni in chat si chiama Paranco infatti già riconosciuto la gente è esperta ammetto la mia la mia ignoranza tu stai qui va bene se vuoi stare qui io non ho mica problemi siamo una bella coppia ciao arrivederci è andato è tornato al suo posto un gattaccio quindi ci sono le borsine tutte da riempire anche qui abbiamo messo in piedi una catena di montaggio che Ford levati cioè tra il il passaggio della borsina chi inseriva una cosa chi inseriva l'altra però giustamente devono essere tutte uguali quindi non fare danni lì hai capito ho appena montato una gattaiola nuova perché l'altra me l'ha letteralmente sfondata perché esce alla velocità della luce una di queste volte gli chiedo lo sportello così ci si spacca se non mi rompesse la gattaiola io lo farei che a forza di uscire di prepotenza ci ha mollato e quindi ho dovuto comprare un'altra altre borsine quindi si inizia un po' a mettere giù le sedie quindi iniziano a esserci che sono arrivate con un camion le sedie erano piuttosto pesanti prova tecnica un po' degli schermi di nuovo la sala di prima qui un po' un debriefing che ci sta a fine giornata con gli altri ragazzi qui c'era il momento di organizzazione del giorno dopo per il ricevimento che abbiamo fatto con Eventbrite comodo auspiccio abbastanza diciamo c'era un po' la difficoltà di dover fare due registrazioni una per la location che ha il suo sistema e una per l'evento quindi siamo direi pronti pronti alla partenza e anche qui c'è la direttiva ai giovinastri uso questo termine ovviamente in maniera simpatica bravi ragazzi delle superiori che anche sabato finita la scuola sono venuti direttamente all'evento e il giorno prima hanno aiutato ad allestire quindi qui si danno un po' le direttive sul da farsi qualche foto di repertorio e poi qui fare le foto al fotografo qui ovviamente siamo fatti un sacco di selfie tutto pronto per il giorno dopo queste le avete già viste se vi vado un po' all'evento giusto per non tediarvi un po' troppo però giorno prima c'era un po' di disordine però iniziava già come dire a prendere un po' forma c'era anche un ricevimento qui direi che siamo già forse al mattino siamo ancora al pomeriggio quindi tutto pronto sedie pronte lo schermo col programma anche qui qualcuno che doveva sistemare lo schermo fai molesto non grattare il mio questo è sempre qui che si sta divertendo stasera sei carico mi guardo in maniera strana ve lo lascio vi lascio vedere quello che fa quindi qualcuno si è dovuto occupare del sito modifiche la sminute di questo pannello della grafica di quello che far vedere c'era la grafica dei badge c'era la grafica delle cartelloni le grafiche che abbiamo condiviso sui social per gli speech eccetera eccetera tutti i badge tutti i fatti quindi insomma è una roba che nel momento in cui la si vede non pensavo ci fosse così tanto così tanto da fare altro altro gruppo ho una faccia un po' rattristata non so perché anche perché ero abbastanza contento ma le vi ero pronte per scrivere sui badge dei partecipanti il proprio nome e cognome quindi qui fondamentalmente qua direi che siamo al mattino siamo pronti a partire perché ci sono ci sono tutte le i badge pronti alla partenza con le transenne per per entrare questo è Lia che è il ragazzo di Flutter Modena che ha anche coordinato un po' le stanze mi ha un po' indirizzato su altre cose tutto pronto qui sono sempre la scala che va su adesso non sono forse in ordine cronologico questa è una foto del parcheggio non so cosa l'hanno fatta non so se ho risparmiato la foto magari ve la faccio vedere dopo in separata sede dell'ascensore con cui che porta diciamo al primo piano se non si usano le scale perché è una roba veramente da film horror devo prenderla la sera l'acqua gratuita pronta per tutti sia organizzatori che altri e qui si parte come dire con la registrazione tutti muniti di fischietto perché in caso di necessità o per indirizzare un po' la gente da una parte all'altra in caso di necessità il fischietto pare che sia quindi fischietto scotch e tutta una serie di cose pare siano indispensabili perché altrimenti non non ci se ne esce beh qui si scherza un po' con ah ma c'ero anch'io non so neanche riconosciuto ho un'espressione un po' un po' strana un po' titubante ma secondo me qui c'ho gli occhi chiusi ma tra l'altro stavo guardando ah no pensavo niente ok questa è una foto mia la vedo perché è un po' sfocata ma il mio cellulare che non è il massimo pronti a partire che dopo arrivano gli sponsor e questi sono propri preparativi questo è Alessio che è un ragazzo di Netframe che è uno dei degli sponsor che sponsoride spesso i meetup e offre davvero a tutti quindi anche per quello direi come dire venirebbe anche lui fare un monumento e c'è il logo il caffettino al bar il bar è sicuramente uno dei abbastanza fornito devo dire quindi sicuramente un'ottima un'ottima aggiunta quindi è tutto pronto comunque anche il numero di sedie per una sola delle sale dà anche l'idea del numero di persone che ci aspetta altra cosa carina i gadget annetto che questo è un messicano e quindi non è un vaso con un cactus ma intericamente potrebbe anche sembrarlo forse forse è dubble fassa andava messo sotto sopra ma è un razzo questo per fare le foto ovviamente con i meme quindi condividere un po' sui social le fotine qui è tutto pronto ci sono quelli di machine learning in Modena c'è sempre il cartello con le varie qui vedete che la zona è molto più pulita si è già pronti per gli sponsor ok l'acqua qui c'è prove tecniche di laboratorio i microfoni eccetera c'è la persona diciamo ovviamente adibite a questo tipo di lavoro perché c'era la main stage con qualcuno che veniva anche da fuori grazie che foto ecco gli occhiali le foto meme anche questo qui c'era appunto conoscere linux ml Modena c'erano le due community vicine questo direi con video c'è la parte di dead frame amico mio gli sponsor che iniziano a mettere giù le proprie le proprie iniziano a arrivare le persone e quindi si inizia a fare un po' la registrazione chiaramente all'inizio in realtà l'ingresso è stato abbastanza fluido ci aspettavamo chiaramente il momento di maggiore affluenza cioè c'è stato però non c'è stato quella gettata improvvisa ingestibile poi si pensava già di fare diverse file ma invece fondamentalmente come dire non è stato necessario c'erano più persone non si è creata nessuna coda quindi la gente è entrata ed è andata direttamente nella nella main e quindi prima c'è stato un workshop per i bimbi del maker ci doveva essere un coder dojo ma non c'era stata abbastanza adesioni quindi si è fatto una cosa sul making con i ragazzi il programma è in bella vista ovviamente con cui un talk mio ritorno al futuro sviluppare app mobile e cross platform in pascal che magari in una prossima live eventualmente vi faccio vedere oppure se esce su ma eventualmente probabilmente uscirà su youtube quindi e c'era anche Flavio Flavio Basile di BitTime che alcuni di voi conosceranno che portava uno speech su DelfinVC framework che abbiamo visto qua in live sull'API sull'API testing con PyTest quindi come dire insomma per una conferenza su in casa Google con Talk Flutter riuscire a parlare anche di Delfi secondo me è un'ottima come dire una cosa particolare non inedita quindi sono contento che comunque ci abbiano dato un pochino di spazio e comunque ci abbiamo ottenuto sia io che Flavio visto che avevamo come dire argomenti di questo tipo su Pascal e Delfi anche se non figura proprio direttamente nel titolo a comunque tenere una cosa abbastanza tecnica quindi siamo stati forse tra i pochi adesso non ho visto gli altri probabilmente qualcun altro avrà fatto qualcosa del genere però abbiamo visto anche del codice oltre a del io ho cercato di tenere la cosa un po' più rilassata possibile però fondamentalmente siamo stati abbastanza benvenuti al The Fest anche qui un po' l'ingresso le code e quelli che entrono si registrano alla location sì dai qui un po' di coda ci è venuta ma tutto sommato si è come dire si è dissipata abbastanza bene anche perché sia per quelli in coda sia per gli speaker c'era qualcuno addetto con maglia gialla o maglia rossa a portare dentro le persone verso l'evento e quindi qui è un altro video ci sono le persone ci sono io che me la non so chi probabilmente sto chiacchierando con un mio amico che ogni tanto passa qui in live guarda le repliche qui in un altro sviluppatore Delphi che ci sta quindi si chiacchierava un po' e si puntava un po' a fare foto con con i gadget che c'erano lì di fianco infatti qui c'è qualche foto con ornamenti vari i badge scritti qui qui nell'area sponsor qualcuno che ha fatto un po' di foto un po' gogliardiche ma in fondo è The Fest quindi la parte della festa ci deve essere che foto un po' di sponsor che hanno partecipato perché mi sono anche alcuni fossero degli sponsor vado un po' sulle cose magari di rilievo particolari un altro ospite Luca del Puppo un altro che probabilmente avete sentito nominare spesso perché porta TypeScript nelle conferenze quindi diciamo che noi soprattutto gli sviluppatori di Elfie hanno un legame con TypeScript per il fatto che sono entrambi invenzioni di Ander Eisberg non so come si dice in danese che era parte anche del mio talk di collegamento tra Elfie C Sharp e i vari linguaggi di Turbo Pascal anche la reception come dire l'umorismo non manca bravissime anche le ragazze dell'organizzazione conta la rovescia pronta a partire c'era anche ovviamente qualche recruiter mi viene in mente perché vedo una nel mezzo a Leonora che mi ha scritto anche su LinkedIn che come dire ha fatto un po' di mi sanno networking giustamente perché ovviamente anche qui c'è un incontro della domanda dell'offerta dal punto di vista di aziende che cercano persone e magari persone in cerca di lavoro c'è il keynote di apertura con Mirko spero di non sbagliare i nomi e Maurizio sempre il GDG che pare che lavorino anche assieme un po' di gente che poi pian pianino è arrivata si è accumulata questa è poi una delle sale quindi erano anche un po' sparpagliati non male questa foto con questa smorpia un po' un po' strana le foto non sono mancate ce ne sono tante alcune hanno anche i meme hanno qualche filtro quindi c'è sempre anche soprattutto come ricordo anche del gruppo un gruppo molto affiatato perché dirò non ho mai incrociato nessuno dello staff senza come dire un cenno una smorfia come per dire dai che ho tutto bene coraggio oppure un cenno come per dire cavolo oggi veramente una giornata con un sacco di un sacco di cose da fare e quindi questa è un po' sfocata questa secondo me è una delle mie che prova a fare meglio con il conto alla rovescia ci sta ci sta un po' diciamo un po' il capodanno ma no le persone sicuramente c'è una buona affluenza poi qualcuno era un po' sparsi anche nel workshop perché il workshop andava parallelo questa è l'area degli sponsor quindi c'era netframe c'era expert.ai di cui ho seguito un talk perché dovevo fare la valletta che alza il cartello mancano 15 minuti 10 minuti alla fine 5 minuti talk è finito Zuru e poi queste sono probabilmente le mie foto perché me le ricordo c'era anche il gruppo Credem che tra l'altro io lavoro per una società che è collegata come consulente al gruppo Credem e quindi come dire sono andato a salutarli perché giustamente mi fa piacere che comunque abbiano sponsorizzato perché senza come dire queste community conoscere linux cubica non si legge vabbè li leggiamo poi dopo sul sito al massimo netframe expert.ai azur eccetera tutti gli sponsor che sono qui avevano un banchetto ma poi ve li faccio vedere sul sito perché è importante anche dargli visibilità perché senza chiaramente loro supporto questo evento non si sarebbe mai fatto onestamente nella ragazza che gestiva mi sembra la parte maker con i ragazzi sopra con la foto ovviamente con gli occhiali di rappresentanza nella parte alta veramente nessuno ha fatto una foto a me mentre facevo il talk o forse magari qualcuno che non ricordo foto della platea ecco queste diciamo sono abbastanza ripetitive più che altro anche qui ancora Luca e Alfonso mi sembra si chiami spero di non sbagliare il nome perché sennò la figuraccia è totale però sono certamente tante persone che poi in realtà poi il problema che a volte mi confondo pure io quindi c'è una foto un badge scritto ovviamente a mano questa è della parte iniziale cerco di andare un po' avanti qui ci sono tutti gli organizzatori ovviamente giustamente che hanno bisogno della celebrazione ecco il oddio mi sfugge il nome porca miseria non me lo ricordo conosciuti c'è l'unica persona di cui mi ricordo sempre il nome perché è Lucera ecco Carlo Lucera c'è l'unica quello che ho letto più spesso che ho visto più spesso perché molto come dire presente negli eventi soprattutto su Flutter e quindi in molte conferenze lo vedete spesso anche perché con il berrettino il suo cappello è abbastanza iconico quindi simpatico altre foto di repertorio vado un po' avanti giusto per non tediarevi troppo per trovarvi anche qualcosa da come dire da vedere di diverso qui anche qui non ci sono altre cose particolari questa cosa carina di Zuru uno degli sponsor che ha fisso al muro un pezzo di codice per cui come dire se si andava a fornire la soluzione al banchetto dello sponsor se era quella corretta si poteva vincere un premio questo è un ottimo modo di fare un bel un bel recruiting perché come dire fornisce anche l'esercizio se uno arriva e ti dà la risposta giusta posto che non l'abbia già trovata altrove non l'abbia copiata ecco io come dire non ci sono neanche messo perché quando il codice non è formatato non ce la faccio non uscivo poi essendo direi C++ non non è sì lo capisco lo capisco perché lo so leggere però come dire già già ero fin troppo oberato qui un po' di foto un po' di foto col meme di persone rattristate per così dire con questa con questa espressione ciao Jax ben arrivato con questa espressione un po' tristerella questi filtri sono peccato che piega anche gli occhiali e quindi si nota quando il filtro che applica la modifica anche qui un'area sponsor e tutti tristi un effetto abbastanza stavamo guardando le foto del The Fest di sabato a Modena sala tigella qui direi che c'è una mascella un po' deformata versione diabolica e ho questa idea carina quella di mettere un codice e chi indovina la risposta va a fare può andare a ritirare un premio dallo stand certo ci sono fatti prendere un po' la mano con questi filtri che sono un po' però vabbè ci sta tanto alla fine la questione agogliatica vabbè robe un po' adesso magari vado a questa lucera c'è un altro degli speaker magari vi vi punto un po' le foto che sono un po' meno ripetitive più interessanti questa è l'area workshop cosa potrei farvi vedere chiaramente ogni sponsor si è portato un po' i suoi gadgetini una ruota della fortuna un po' di robe giustamente per attirare le persone penso che abbiano fatto un discreto un discreto networking secondo me sono stati abbastanza soddisfatti direi quindi dovrebbero essere abbastanza contenti perché comunque le persone non erano poche i contatti sono stati abbastanza poi chiaramente persone del settore quindi tra sponsor e sponsor tra sponsor e altre persone cioè comunque più di 300 persone è un discreto è un discreto risultato secondo me anche qui c'è la parte credente chiaramente con maglietta e codicino python giustamente per rimanere per rimanere in tema questi sono quelli di expert.ai che hanno fatto un talk interessante su riconoscimento di nei documenti di parole lemmi character recognition con tutta la parte ovviamente nuova legata ovviamente ai motori basati su AI gli LLM e tutte le cose che ormai sentite nominare questa ragazza maker dojo si chiama Barbara se non ricordo male anche questa un'altra community ML ML Modena che organizza spesso degli eventi c'era un computer dove si andava a riconoscere quali gatti foto di gatti generate dall'AI oppure quali brani ti mettevi le cuffie dovevi indovinare quali canzoni erano originali e quali generate da un AI qui c'è sempre una parte di un talk qui c'è un workshop non mi ricordo su che cosa forse quello di Moro Linux qui c'è qualcuno che si sta cimentando appunto nel nel riconoscimento delle delle canzoni con il ragazzo non mi ricordo il nome però certamente tante persone qui è il momento di ma dojo è un linguaggio no non penso no però sai tutti le maker dojo coder dojo li chiamano così quando sono quindi i ragazzi più piccoli dove gli fai fare magari qualcosa come un arduino quindi o robotica oppure gli fai codificare questo è Davide Cavallini che ha curato il sito ha fatto parte del sito infatti faceva modifiche dell'ultimo minuto al sito che è fatta con view infatti ho visto un attimo in un angolino la reception mentre modificava le ultime righe di codice altri ragazzi ovviamente di conoscere linux qui siamo già all'interno di un talk writeable operations in quate qui non leggo il nome perché poi non ho potuto seguire i talk direttamente perché dovevo correre un po' di qua e di là magari accompagnare qualcuno tenere controllare in uno speech che finissero in tempo insomma stare un po' sulle tempistiche e quindi come dire non ho potuto questa è la foto di un talk che effettivamente ho seguito perché ero presente e quindi ho fatto ho fatto la foto e si parlava vedete sullo sfondo si vede un po' nello screenshot il documento che viene tracciato expert che se non ricordo male ma l'ha detto anche lui ma non vorrei dire una cosa anche qui sbagliata che poi dico sempre così ma in realtà ci becco abbastanza sempre curato le traduzioni di office e quindi la parte diciamo l'internazionalizzazione dei pacchetti di microsoft l'azienda di modena se non ricordo male quindi qui c'è Flavio il mio compare che che sta facendo il talk con non so se questo è quello di morro linux forse no perché non lo vedo in giro quindi però dopo c'è anche lui nelle foto ok altri filmati vado un po' avanti a vedere se ci sono comunque degli elementi nuovi che possono essere interessanti chiaramente non sono mancati anche i momenti di condivisione fuori dal bar qualche chiacchiera ovviamente sempre a sfondo tecnico poi ho visto un sacco di di persone che poi ho salutato quindi da vicino che non vedevo anche da un po' in alcuni casi quindi mi ha fatto molto piacere rivederle che hanno partecipato all'evento che qui c'è Simone Busoli mi sembra il cognome lui o si chiama Adriano aspetta Alfonso Adriano quando non mi vengono in mente i nomi e li so fino al momento prima lui è Luca quindi sono di Nearform che è un'azienda abbastanza conosciuta perché comunque fa a livello javascript a livello frontend cosa abbastanza di alto livello qui c'è Moro Linux che teneva il workshop poi adesso magari ridiamo un'occhiata al programma quindi qualche foto di dito anche quei ragazzi superiori che sono venuti dopo scuola a imparare a come dire qualcosa sul tema perché ce n'è molto bisogno di sviluppatori le aule erano un pochino forse un pochino vuote si tendeva a stare più sull'aula principale però qui l'alternative python quindi gli argomenti sono stati dei più disparati tra dart typescript python si è parlato di micro frontend si è parlato di OCR soluzioni basate sull'AI si è parlato di command query cqrs quindi ho sbagliato perché conosco una persona che sviluppa non lo conosco proprio quindi dockerizzato app distribuisci senza pensire questo deve essere il workshop di moro linux quindi per cui posti non limitati perché ogni persona si è presentata col proprio pc e quindi ovviamente più di tot persone non potevano starci perché giustamente lo spazio poi io ho suggerito a qualcuno che me l'ha chiesto molto spassionatamente tu puoi provare a sentire tutto al più se qualcuno dovesse avere dato forfè però direi che su 25 posti con un overbooking presi 75 biglietti un overbooking di 50 è abbastanza improbabile come dire finire nella graduatoria giusta però non si può mai sapere qui c'è quindi moro linux questo è sempre il codice sulla sulla parete qui si è portato si parlava di un porting di qualcosa mi sembra da c++ o verso c++ se non mi ricordo non l'ho seguito perché me ne hanno parlato quindi una cosa abbastanza abbastanza delicata i ragazzi che portano qui c'era Amanda non mi ricordo mai i nomi porca la miseria adesso mi leggo il programma qui sono tutti in ordine cronologico quindi le vedete qui c'è il buon Flavio Basile che poi gli manderò queste foto gli mando il link così se le può scaricare che trattava di API testing quindi io e lui abbiamo così parlato un pochino di di Delphi eccetera peccato che non ci siano delle foto dalla mia parte che poteva essere curiosa a parte saperlo anche per me quindi Firebase New York command line quindi qui siamo ovviamente su tecnologie Google che sono in ordine di qui comunque una presenza femminile quindi anche ragazze ovviamente inserite a pieno titolo nel coding e mi sembra più che giusto qui non mi ricordo siccome era in contemporanea ecco questo è l'esterno delle aziende elettriche municipalizzate quindi è stata conservata un po' di quello aveva avuto poco poco overbooking c'era effettivamente poca gente ma me lo aspettavo perché la cosa era abbastanza di nicchia e giustamente le sale erano dimensionate per il pubblico cioè la parte centrale chiaramente quando hai un ospite internazionale mi aspetto che venga più cioè ci sta che uno vada a vedere cose magari di Google da uno che viene da fuori che ti parla di AI piuttosto che qualcuno che ti parla di cose che non sono vecchie perché l'obiettivo del talk appunto era evidenziare che non non lo fossero anzi si parlava proprio di ritorno al futuro perché si faceva un viaggio nel passato e poi nel presente ma adesso se non pubblicano video magari una sera un'altra live vi faccio vedere un po' le slide perché secondo me sono venute anche benino ho fatto sono stato un po' pionieristico in un paio di cose che forse non valeva la pena rischiare ma è andato abbastanza bene il cibo non può mancare qualche bimbetto che si è ovviamente divertito a giocare con coffee break scritto con coffee break qui c'è Carlo Lucera che parla ovviamente di flutter come dire delle cose più più trattate perché ovviamente siamo casa google prodotto questa è la mia foto alla paper del debugging I love spritz un po' di foto di gruppo degli organizzatori che devo dire hanno fatto veramente un gran lavoro anche vederli in action un po' di foto ma vedi che anche questo no questa volta è sul dritto quindi è un cappello non è un cactus nel vaso ma deve essere messo deve essere messo dritto quindi se non fosse stato qui c'è Flavio che ritira una domanda la maglietta perché ha fatto una domanda che sembrava banale ma ha impegnato per un perché si parlava di micro front end di quanto sono scalabili e quindi la domanda era ma ha che senso ha parlare di scalabilità di front end quando il front end finisce fondamentalmente dentro un browser di un dispositivo di un utente quindi per cui la risposta era che la scalabilità è nel team che ci lavora perché l'obiettivo del micro front end è poter avere in una pagina quindi una pagina web tanti pezzi che però possono essere deployati separatamente quindi questo è un po' il e c'era una spiegazione insomma di cose che potevano ciao vision qua 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 non c'erano i suoni intanto le paperette no guarda Giacomo le paperette no forse ce l'ho ce l'ho nel papere non mi ricordo se c'era come l'ho chiamato il però adesso lo dovrei avere tra i suoni non mi ricordo il magari c'è anche o forse l'ho tolto l'ho tolto l'ho tolto ah paperette guarda le paperette guarda e poi sono altre queste vabbè ci sta e quindi si è guadagnato la maglia per questa domanda ci sta comunque l'obiettivo era questo questo è un assessore comune di Modena che ha si ha fatto patrocinato diciamo in un certo senso non dal punto di vista come dire del portare un attimo la parola visto che comunque si parla di una di un evento che è importante per le realtà modenese quindi ci sta un po' anche l'intervento della politica che fa la sua parte il discorso di rito foto finale del gruppo sia degli organizzatori sia quelli in giallo sono gli organizzatori quelli in rosso sono lo staff diciamo di aiuto quindi molte persone giovani io sono lì che ho una faccia un po' strana non so come mai questo il buon Flavio siciliano di Modica esatto che ha preso l'aereo ed è venuto fino fino a Modena per il suo talk infatti mi ha mi ha stupito mi ha stupito anche quando gli avevano approvato il talk e a me no che ho detto cavolo io non me l'aspettavo però provano il suo ho detto boh il mio secondo me io l'ho proposto devo dirlo giusto per dire vabbè c'è un evento qua nelle vicinanze propongo qualcosa perché secondo me collaborare è anche dare un così proporre qualcosa magari come scelta non mi aspettavo effettivamente che mi sia preso perché fondamentalmente parliamo di un quasi di un concorrente per quanto scusa perché non ho visto la domanda il signore con la meta bianca è Thorwald effettivamente gli assomiglia un sacco adesso glielo dirò perché effettivamente io non ci ho mai pensato però effettivamente Flavio gli assomiglia veramente un sacco questo non c'è che dire effettivamente gli assomigli se avesse un orecchino qui i capelli un po' più scuri o più chiari l'altro diciamo che gli assomiglierebbe molto questo è per cui non ci ho non ci ho mai pensato ed effettivamente ci sta avevo avevo sguinciato la domanda non l'avevo vista in alto perché c'è il bot che che fa le sue le sue cose interessanti questo glielo segnalo sicuro altre foto diritte con gli speaker con Carlo Lucera con la maglietta Flutter e Dart giustamente che ci sta e ci vediamo nel 2025 perché visto il diciamo il moto che un po' lo staff tutto lo staff si è dato è che diciamo uno degli eventi se non l'evento più grande quanto meno tecnico a moda negli ultimi dieci anni ma non sarà diciamo non sarà mai grande come quello dell'anno prossimo dei prossimi ecco questa è la cosa che ci siamo come dire detti un po' per caricarci oh guarda qui non devo neanche andare sul sito ci sono tutti gli sponsor Google TrueTech Kubica AMF Expert AI Netframe Dualbit il gruppo Credem c'è QX A2Bit studio commercialisti GDP quindi anche delle realtà che fondamentalmente dice uno studio commercialisti non è in realtà poi sul tema perché chi fa lo sviluppatore copartita IVA il commercialista comunque di solito ne ha bisogno per cui senza i quali non si sarebbe potuto tenere l'evento quindi direi che ci sta assolutamente anche qui Nearform al completo i ragazzi Nearform questa è girata sono sempre i ragazzi io dopo non sapevo che fare per un attimo ho fatto un po' di foto io sono famoso per le foto un po' insignificanti ai robot che c'erano sopra che effettivamente nessuno li ha immortalati questi dovevano stare lì ma non li hanno utilizzati dovevano ci voleva gente a presidiare che nessuno ci andasse attorno perché penso che costino un pochino da vedere così l'aspetto è di quelle cose costose comunque la location è molto molto interessante da questo punto di vista poi ovviamente c'è stata la la birratina finale perché ci stava però ammetto che tra venerdì spostare i tavoli spostare i pannelli le sedie le scaricate qualcuno ma portarle fuori dalle aule portare dentro le altre controllare tutto fare le borsine sabato ovviamente c'è stato l'evento alla fine dell'evento abbiamo dovuto sbaraccare quindi abbiamo dovuto ripristinare tutto com'era mi sono portato un paio di gruppi di sedie giù dal soppalco per la scala quindi per due giorni ho fatto bene assaltare la palestra perché l'ho fatta comunque però stavolta a me ne avevo una maglia che non si vedeva così tanto il sudore come quella che aveva all'inizio però vabbè così si ricordano di me lui è il il maiale che suddava no vabbè per cui anche smontare rimettere assieme le sedie rispostare tutti i tavoli dove erano toglierli dalla parte centrale quindi ripulire tutto buttare via ovviamente carte tutto quello che c'era è un po' è un bello sbattimento dopo che hai fatto tutta la giornata in piedi parlando con delle persone facendo un po' correndo un po' di qua e di là cercando di vedere almeno nel mio caso se qualcuno aveva bisogno perché cercavo di stare a disposizione ho fatto un po' di networking ero in ansia per il mio per il mio speech tra l'altro mi sono messo a nell'aula sistemare un po' le ultime cose prima dello speech perché io faccio sempre così cioè c'è sempre il momento di dove mi metto perché sono perfezionista e voglio andare a mettermi a fare delle cose siccome però alla fine ho detto beh dai più o meno ho tutto e mancava ancora del tempo mi sono messo a fare un'applicazione che dopo vi faccio vedere giusto per il meme e poi non vi faccio vedere le slide e il resto perché se esce come dire un video adesso magari chiederò qualche informazione se lo pubblicano perché hanno ripreso tutto quindi tra l'altro le riprese non erano proprio facilissime perché c'era comunque da rimanere in una zona per poter consentire il montaggio tra le slide se le pubblicano diciamo il filmato penso sarà aperto a tutti anche perché l'evento non era a pagamento quindi fondamentalmente penso che tutti poi lo potranno lo potranno vedere quindi qui un po' le foto foto birra la mia foto al selfie alla foto delle selfie di un altro chiaramente c'è stato alla fine rilassamento totale perché quando è sistemato tutto eccetera ti ingozzi al bar e poi dopo fai ovviamente le foto bevi un pochino perché tra sprizzi un po' di vino è uscito qualcosa come dire alla sera del sabato eravamo tutti abbastanza decisamente decisamente provati potremmo dire quindi qui ci sono io che ho sempre questa espressione di come se non sapessi bene dove mi trovo e cosa sto facendo un po' di foto di finali del gruppo di ragazzi ovviamente che ha lavorato e che ha fatto un gran bel lavoro ci sono andati tutti molto da fare secondo me anche i complimenti ricevuti dagli organizzatori non erano come dire detti per convenienza ma ci stavano tutti perché ci siamo veramente dati da fare quindi il gruppo ci stava qualcuno veniva anche abbastanza da fuori per cui qui c'ho la mia foto non so perché finita in fondo forse è il problema dell'orario forse per cui un grande evento molto molto interessante quindi alla sera eravamo eravamo abbastanza stanchini però come dire è stato divertente è stato istruttivo capisci anche dietro questi eventi qual è lo sforzo è un po' come quando ho fatto i corsi di cucina nei momenti in cui ho visto cucinare quando ho pensato mia mamma che fa tre pietanze per tre persone diverse in casa a suo tempo ho detto cavolo non è una cosa che tu trovi nel piatto lo che ci cresce dentro ma dietro ci vuole ci vuole chiaramente lo sforzo di persone che sanno chi contattare sanno come fare le cose quindi a quel punto si mettono si mettono a gestirlo quindi le varie community di sponsor ovviamente l'ingresso era gratuito poi le foto verranno pubblicate anche sul sul sito ufficiale quindi al momento sono in questo album di di google però qui ci sono gli organizzatori quindi c'è Maurizio Davide c'è Mirko Camila Zaccagnino Emiliano Maccaferri sono tutti Francesco Boschetti che ha fatto un sacco di di fotine Marco Arena qui c'è la parte dello staff Marco eccetera ci sono pure io che è il mio facciotto qui con un link dei cavallini vari supporter tutti gli studenti che ovviamente hanno fatto parte del questi perché non avevano diciamo la loro la loro grafica per cui sono sono stati messi con questa segna posta però questo è un po' per in ogni caso anche se perché le mie chat non appaiono non lo so questa è una buona domanda in alto dici effettivamente è vero non penso che tu sia in una white list però curioso diciamo che non ne appare neanche uno in alto sono rimasti un po' indietro debug vision non appare il bot non appare scritto anche jacks però c'è debug i tuoi errori il signore con la maglietta secondo me ha fatto un po' di confusione ci sono questi widget che che sono un po' impazziti questi widget delle chat sono un po' che altro far vedere gli sponsor ve li ho fatti vedere la location c'è solo scritto dove si entra gli speaker ovviamente quindi moro linux riccardo carlesso gianni perteghella flavio caro lucera luca del pupo amanda cavallaro quindi facendo l'inglese matteo maria terzuolo che è uno dei pochi che vi appaiono un po' a caso si che ha fatto appunto un talk su dart sul pattern matching cioè su zanna wong mico giglioli ha fatto maurizio ipsal hanno fatto il keynote della capitania sandorosa stefano simonazzi stefano legretti emiliano della casa non c'era anch'io o no ah si non mi sono neanche visto quindi ho questa faccia di uno che dice vabbè facciamo vabbè come dire forse è colpa delle paperette no non penso metti una paperetta appaiono solo le tue vediamo se appaiono appaiono solo le tue si pagano un po' a caso ma probabilmente c'è qualcosa nel che si è termine tecnico sminchiato sul sul poi faccio vedere un po' appunto dei post perché c'erano un po' i dettagli quindi il più grande appuntamento informatico nella nostra città degli ultimi undici anni questo è Davide degli organizzatori abbiamo dimostrato questo messaggio per lo staff pubblico che le cose che non si possono fare è partito con l'idea di una software valley in Emilia Romagna non silicone ma software ma le non ci hai si sta provando quindi dai meetup e messili alla fine ci siamo uniti quindi si è fatto il però compare l'alert quindi adesso per queste chat le spengo perché sono comode per chi non ha magari la chat o in un telefono o così però mi hanno mostrato una crescita straordinaria senz'altro perché su alcune cose io proprio non sapevo volevo ringraziarvi di cuore profonda gratitudine e quindi tutte le le persone in qualche modo che si sono poi chiaramente non sono mancati gli aneddoti tipo le radioline per chiamarsi che avevano agganciato delle radi di muratori quindi qualcuno ha chiesto qualcosa ha risposto una persona che non era nello staff per cui ci sono state un paio di scene scene divertenti i vari i vari commenti ovviamente ecco c'è molti cuori però effettivamente io ho messo like dappertutto ovunque perché ci tenevo a far capire che secondo me mi è piaciuto molto lavorarci partecipare quindi spero di essere coinvolto anche e quindi diciamo secondo me sono proprio sentiti e non sono di convenienza perché è stato proprio lo Spielberg del Deathfest Davide poi è comunque preso da quattro cantoni chi chiedeva una cosa chiedeva l'altra mille cose da fare cioè riuscire avere sempre il posto della situazione con una calma e un apparente cioè per dire per fare il mio talk io ho saltato proprio il pranzo perché ho detto non vado a pranzo mi metto qui e faccio e preparo le mie cose non avessi mai detto che non l'ho fatto mi ha spedito al bar a mangiare forzatamente quindi è uno che ci tiene a che le persone sicuramente si sentano a proprio agio e questo non si può dire per cui come dire da prendere a modello perché non è facile e mi chiedo ancora come faccia da questo punto di vista perché non è veramente facile e quindi vorrei questo è un altro post di Dario iOS developer che lavora a 2bit che era anche uno degli sponsor assieme ad altri ragazzi quindi ragazzamento speciale gli sponsor e quindi quotando un po' tutti i ragazzi con le sue foto quindi qui ovviamente ho messo super stra like oltre alle foto coi fili coi filtri che sono ovviamente genialata e i commenti ecco Matteo se è vero si chiama Matteo Gianetti uno di quelli che abbiamo visto prima nelle foto se è un fotografo un salato urgente questa è la radiolina anche se le radioline avevano un po' le loro bizze però hanno come dire fatto il loro il loro perché cioè creato i loro meme quindi NetAI avremmo voluto incontrare recupereremo il pieno possibile quindi anche tutti i vari sponsor sono stati molto felici quindi se avete un'azienda che magari è interessata il prossimo anno a sponsorizzare che bomba si è concluso il The Fest e questo è il dia un altro che lavora sempre su Flutter e che diciamo un po' il must di Flutter Modena studente che ovviamente ringrazia lo staff guardavo se c'era qualche dato Next Step The Fest Moda 2025 quindi si è partito si è partiti già molto 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 carichissimi e quindi manda a cavallare una delle speaker scritta anche un pezzo in italiano GDG Genova quindi anche l'appoggio delle varie community dei vari Google Developer Group che hanno dato il supporto ovviamente quelli di Modena questo è un altro post di Eleonora che però è un tech recruiter quindi non è uno sviluppatore però si sta un attimo informando un mix di incontri stimolanti competenze quindi anche per chi lavora nel settore deve magari lavorare con risorse umane anche questo ovviamente è stata un'occasione per incontrare aziende urge un cambiamento culturale nelle organizzazioni quindi questo è un punto di vista leggermente diverso dalla prospettiva di chi ovviamente parla al mercato del lavoro piuttosto che ma anche i lavoratori ma quindi ho avuto la possibilità di confrontarmi con alcuni partecipanti con senso unanime per essere work life balance innovazione crescita devono essere al centro l'organizzazione rischia di rimanere fuori dal mercato si è chiaro che vedi un po' di queste realtà diverse capisci che insomma quelle aziende che si organizzano in maniera un pochino diversa riescono magari ad essere innovative e sono quelle anche proiettate più facilmente nel futuro sono un po' rilassata sono trattati al mio comfort zone super talk carina nel tech di alfonso alfonso graziano quindi io ho detto adriano no secondo me il primo nome che ho detto alfonso e poi mi sono che però non era un talk che è un ragazzo che mi ha visto prima nelle foto anche lui di near form che ha fatto e che ha dato anche una mano a installare quindi anche lui c'è comunque agropoli campagna quindi bravissimo quindi anche proprio gli speaker che si sono cimentati nell'organizzazione approfondimenti nelle slide di alfonso di cosa fa per corsi di carriera nel tech hanno tenuto proprio un attimo per ripassare alcune domande chiave scoprire altre senior engineer o engineering manager questi sono ovviamente un po' quei temi e quei temi di cui io sono un po' come dire un pochino estraneo perché sono più sul tecnico e lascio queste cose a chi communication skill ecco sicuramente è stato un evento che mi ha aiutato dal punto di vista delle soft skill perché io non sono un animale che socializza tanto dal punto di vista non mi metto diciamo magari a uno che entra e gli dai facciamo il selfie mettiti questa sharp questa collana piumata facciamo il selfie cioè magari se mi chiedi qualcosa sicuramente benissimo è tantissimo però sono lì a disposizione chiacchiero volentieri però non sono quello che magari si inventa quelle cose particolari ci sono persone più brave quindi anche qui ci vedremo al prossimo del fast mode una OCDG Cloud qui ci sono citato anch'io perché abbiamo avuto modo di parlare in chat un po' di questo evento quindi Tato comunica in maniera un po' particolare con i vocali che magari è un po' strano soprattutto su LinkedIn però dal lato suo c'è l'immediatezza è il fatto che mentre scrivi anche il tono della voce si capisce un po' il tuo carattere il tuo modo di porti le tue cose io non mi ricordo se ho scritto oppure ho fatto vocali anch'io forse ho fatto un vocale anch'io perché andiamo andiamo di pari passo qualcuno ha messo anche le slide adesso le mi sono scusato perché l'ho incontrato al mattino ma aveva un po' la era un attimo un po' in ansia perché dovevo pensare al talk e un po' fare un po' quello che mi dicevano eccetera quindi anche questo è un altro è un altro post qui non so se c'è stato o meno un post ma tutti ne hanno fatto uno sono stato a Monen a TheFest qui non so neanche se ho messo il like se non ce l'ho messo ce l'ho messo subito e così siamo abbiamo perché sicuramente è un ottimo post è un evento interessante quindi se il prossimo anno siete controllate nelle vostre zone se ne organizzano uno oppure se non lo organizzano organizzatelo voi oppure venite a quello di Modena quando ci sarà che vogliamo fare ancora più persone ancora più boom il prossimo anno spammerò chiunque però come dire abbastanza soddisfatti più di 350 presenze senza altro abbiamo Delphi per farvi vedere un attimo un paio di cose tra l'altro ho avuto occasione finalmente svanito questo evento nel tornato sabato sera che non ero ancora sazio avevo un sonno della madonna mi ho detto eh ho un'adrenalina non ho voglia di andare a letto mi sono messo a guardare alcune delle pull request che mi hanno fatto sul client di Prometheus di 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 Delphi e quindi sto facendo un po' di code review per mettere su un'implementazione che qualche volentieroso ha fatto del del Instagram le metriche Instagram è stato bravino quindi ho corretto un po' lo stile ma ho messo anche i test quindi come dire più che bravo e cosa mi sono messo a fare siccome c'era un po' di tempo avevo lo speech alle due a luna poco prima di luna mi sono messo a sistemare un po' di cose tra l'altro le cose che ho fatto vedere sono un po' quelle classiche che ho fatto nelle live il giochino della terra 3D che ruota il gioco con le parole l'applicazione di onboarding quindi tutte queste cosine che già in altre live abbiamo visto il pomodoro timer giusto per far vedere quello che ci ho tenuto a far vedere è come linguaggio comunque moderno riesce a fare cioè linguaggio che uno può pensare che sia un po' un po' desueto è comunque ancora attualissimo oltre a quello si fanno delle cose moderne comunque le compili per il destro le compili e ci ho tenuto cavolo non ce l'ho qui perché ce l'ho in camera un libro che sto leggendo ma ve lo faccio vedere direttamente da amazon così abbandoniamo un attimo linus torwards amazon it ve lo faccio vedere tanto poi anche se dato un'occhiata ai miei ordini ho comprato vabbè devo tenere la roba questo è il libro che ho comprato di marco non so come si dice nella lingua adesso farò dire a google pioneering simplicity la storia affascinante di delfi e pascal mi sarebbe stato molto utile per il mio talk peccato che purtroppo è uscito è uscito quella settimana e mi è arrivato venerdì il talk ce l'avevo sabato però gli ho dato una sfogliata e pare essere molto molto interessante perché si parla proprio del del viaggio anche di claus wirth la creazione di oberon modula 2 di certi linguaggi io nel mio speech ho fatto vedere un po' come ad esempio go che è considerato un c moderno in realtà prende a piene mani dal passato da da linguaggi sembra un c ma in realtà prende da linguaggi come modula 2 appunto come pascal cioè come questo linguaggio questo ambiente di sviluppo continua ad avere un senso ad oggi tra l'altro ci sono commenti da Ian Barker Marco Cantù Giorno Pascal Language di Ander Esberg che è il creatore l'original designer di Pru Pascal dei FIT e C Sharp e che adesso lavora in Microsoft quindi non vedo l'ora di leggerlo perché mi sembra una storia molto interessante ho visto che ci sono molti dettagli per cui è uno sviluppatore che lavora in GDK software dovrebbe essere la G di GDK tra GDK diciamola nella maniera più è un embarcadero in VP e ha scritto questo libro che si prospetta essere molto interessante perché ho visto insomma all'interno che c'è abbastanza più di 200 pagine un librino abbastanza mi sa che è uno dei capi abbastanza corposo e c'è una bella storia proprio dell'ecosistema da Blaise Pascal Nicklaus Wirth Philip Kahn tutti questi nomi che hanno orbitato attorno appunto a questo sia linguaggio per il fatto di questi pareri vabbè Ian Barker e Marco Cantù ovviamente me lo aspetto Ander Hesberg insomma è ancora uno una battuta che ho fatto nel mio talk è che se chiedono a Anders quanti figli ha lui risponde 4 e ti dice i nomi del linguaggio Truvo Pascal Deffita e scritto C Sharp secondo me questi sono per lui i suoi figli se lo si vuole avete un Kindle Unlimited è incluso però uscirà a fine mese non è ancora disponibile arriva il 31 ottobre io l'ho preso stampato 24,99 è una cifra medio medio alta però secondo me ha fatto ha fatto un discreto lavoro cioè dalla prima letta che ho dato adesso devo iniziare ancora a leggerlo mi sembra mi sembra molto molto interessante ecco da questo punto di vista che altre cose vi posso fare vedere ma riguardo direi i feed ve li ho fatti vedere le foto ve le ho fatte vedere un po' di cose ve le ho raccontate se pubblicheranno il filmato del mio talk ve lo condivido senz'altro sui soliti sui soliti canali e e questo è stato un po' un reportage che ovviamente rispetta anche quelli che faccio come dire scritti ma soprattutto a viversi l'evento non ha non ha niente non è come come viversi l'evento appunto però come dire spero di aver trasmesso un pochino un po' di di dettagli e di cose diciamo sensazioni che abbiamo abbiamo vissuto nel partecipare a questo evento spero che se ne organizzi veramente uno anche l'anno prossimo spero di poterli partecipare di poter portare anche un talk ancora più interessante ecco il mio talk diciamo che i talk annetto dei principali quelli che venivano anche da da fuori in inglese che erano un po' più lunghi una cinquantina di minuti erano in 35 minuti è un tempo molto ristretto anche se devo dire guardando anche gli altri secondo me è il tempo giusto per seguire qualcosa senza annoiarsi troppo la difficoltà ovviamente dopo è riuscire un po' a scegliere quelle tematiche che tu riesci a portare abbastanza tranquillamente scegliendo quello che ti interessa portare quello che devi scludere perché ovviamente lì avrei dovuto parlare della storia di Delphi più far vedere qualcosa di Delphi qualche demo come si utilizza eccetera cioè sono cose che il rischio dopo è fare un minestrone però volendo parlare un po' di tutto ho dovuto chiaramente tagliare su alcune cose mi sono affidato a un po' di meme un po' di cose divertenti per tenere l'attenzione insomma spero che quelli che ci sono stati c'erano anche dei ragazzi giovani qualcuno comunque lo conosce l'ha utilizzato qualcuno anche di un po' più attempato che comunque lavora in C++ mi ha detto comunque devo tornare a guardarlo eccetera quindi mi fa piacere avere comunque sollevato un po' di curiosità perché fondamentalmente è un player cioè in ogni caso non comunque venga considerato ed è una cosa su cui ho scherzato poi appunto vi non vi voglio anticipare vi voglio anticipare ma non vi voglio anticipare perché se esce così ve lo andate a vedere è comunque un un tool interessante ovviamente ce ne sono tanti altri non si vuole fare classifiche però ha il suo sicuramente la sua posizione e il suo merito questo questo ci sta quindi no caro chi sa fare sa capire ma che cazzo il proverbio è è la vita è la vita Giacomo come diceva che è una cosa che mi ha detto anche ieri sera del personal trainer mi ha detto io a volte ci muoio inizio parto bene poi dopo ci mollano non ce la faccio più gli dice eh ma bisogna abituarsi perché esattamente come la vita ci sono le gioie ci sono le roture di coglioni quindi questo è il grande insegnamento e quindi vabbè questo era un inserto che non c'entrava nulla ma vabbè tanto per fare ok a meno che sto pensando se c'erano altre cose ma delle foto un po' le abbiamo viste poi dopo pubblicheranno quelle ovviamente più più interessanti sul sul sito ufficiale spero che mettono anche i video spero che siano venuti bene perché lì dovevo tenere sempre un po' il microfono un po' vicino per non ma io sento un rumore gli si muove un po' il gatto gli si muove un po' secondo me si sta sognando a volte russa pure quindi russa più di me che ho quasi smesso quindi questo era un po' tutto quello che vi volevo raccontare sul sulla sulla questione ride c'è una proposta di ride c'è gente a cui fare un ride piuttosto che ne andiamo a trovare altre cose grazie per tutti i reportaggi immersivo spero che sia stato immersivo purtroppo esserci è diverso spero che ne organizzino tanti perché comunque se ci sta un in software napuritan front nome bellissimo adesso vado subito a vedere chi è perché il nome mi piace perché no anche lì ho cercato di pubblicizzare un po' il fatto che che ho il canale che ho non non l'ho cercato su google non più che altro sì anche per farmi un po' di promozione ma giustamente voglio dire faccio tutto a gratis cioè ci sta no che dica qualcuno che esisto e che magari qualcuno che può essere interessato venga c'è veramente sviluppo software e giochi quindi vediamo un po' come funzionare iJS ho finalmente mia coda Silvietta e ti ringrazio anch'io no ci stava perché ci saranno vai ma il Tdecon ho avuto conferma che finalmente ci sarò anche io io ci sarò e porto qualcosina non dico nulla perché non sono è comparsa la chat questa chat non vedete che prima non compariva adesso c'è boh secondo me è un problema di OBS può essere oppure del sito che offre adesso andrò a fare un refresh di questi widget perché ma sempre solo division non ho capito non ho capito il ho perso la battuta se non la battuta ah ma sempre solo ah giusto non compare non compare neanche qua è vero la chat però questo è un widget diverso seppur utente VIP quindi e qui gli utenti forse è che se i VIP però mi aspetterei che i VIP comunque compaiono in un certo qual modo boh dovrò indagare questa cosa dovrò andare a vedere anche perché ha maggior ragione anche se il Vietta non compare che non so però se è il VIP no boh strano non penso ci siano parole bannabili perché non scrivete nulla di che a parte che avete scritto di tutti di più la chat non penso che sia un termine bannabile boh è incredibile non so come come mai comunque Napolitan Frontend è live da due ore e passa quindi forse starà per andare a letto allora è colpa del 4 nel mio nick no non penso non lo so adesso indagherò e cambierò magari anche widget a parla che magari me li posso integrare in altro modo devo un attimo lavorare su queste cose ma siccome l'ho fatto la grafica in fretta e furia cioè più che la grafica il resto del canale quindi è una nuova ed è in live da un po' adesso lo andiamo a trovare spero di aver trasmesso un po' di cose e ti devcon ci sarò non dico cosa porre perché non sono ancora sicuro ma mi hanno girato delle documentazioni quindi penso che sia confermato mi sarebbe piaciuto portare un paio di cose ma non so se riesco a farlo perché poi c'è anche del fidei a padova dove porto qualcosa anche lì tre ore quello è ufficiale e quindi i tdevcon secondo me il sito hanno fatto la versione a bytes gratuita a milano vedete giustamente meno male che c'ho che c'ho la scena che vedo quello che proietto c'è stata la martedì quella gratuita a milano una mezza giornata però con un paio di cose interessanti non so ci sono i talk agenda si è parlato di cose abbastanza delfi più IA vector database robotizzo i processi con delfi fluenti sviluppare giochi con le carte con le carte dal visual basic v2 com64 a delfi per windows preview di itdevcon quindi bello sviluppo web rapido con dfmc template pro e htmx un altro tema abbastanza bella dato questa cosa con quando sono quelli multipli benvenuti che si è tenuta a milano e poi ci dovrebbe essere quella roma però qui mi porta all'home page di roma dove non penso ci sia ancora nulla no ci sono loro e c'è la parte di ci sono i loro profili c'è ancora il call for sponsor ci sono ancora i biglietti scontati perché hanno prorogato di qualche di qualche giorno mentre al delfi day di padova che è il 20 novembre stesso giorno un giorno solo c'è mattina e pomeriggio al pomeriggio c'è la conferenza come programma c'è il classico a parte benvenuto il keynote di di marco cantù che è product manager di delfi quindi delfi 12x la versione definitiva spero di no perché lsp ho seguito consiglio di di claudio piffer in un altro sviluppatore delfi che ogni tanto è passato anche di qua e tiene anche lui spesso dei talk quindi un esperto di sostituire l lsp il tool per il completamento del codice della versione nuova con quello che c'era nella vecchia quindi c'è un'installazione sono andato a recuperarlo perché è molto più stabile quindi potendo fare il magheggio l'ho sostituito per cui per cui lì ci stanno dei fix perché si si blocca un po' troppo spesso htmx web stencil diciamo che i web stencil li abbiamo visti nell'ultima live che abbiamo fatto un paio di settimane fa htmx è un'altra realtà interessante svg icon image list ok per il componente per trasformare in bitmap le immagini svg in modo da averle con idpi di avere l'immagine sempre della dimensione giusta cioè comunque un bitmap ma sempre riscalato nella maniera corretta secondo le soluzioni con carlo abbiamo fatto una serata qui su twitch con i suoi componenti per le dialogue animate che usano schia per fare tutte queste belle cosine q&a conclusione lavori io invece sarò al mattino perché al mattino ci sono i seminari di tre ore e mezza hanno aggiunto anche forse non l'hanno aggiunto ma lo vedo io così perché c'è un carattere grande io avrò usare delfi più python quindi mi farò nei prossimi giorni un escursus totale che noi abbiamo iniziato qua in live però lo farò direttamente qui me lo andrò a studiare bene e proporrò un po' di scenari farò un po' di esempi quindi magari poi ne riparleremo anche in live da questo punto di vista poi c'è Luca Minuti che parla di VGS Delfi io ne ho parlato nel Delfi Day di quest'estate ho fatto un seminario quindi qui viene riproposto in chiave un pochino diversa ma ci sta perché io sono partito diciamo molto prima qui non so come verrà impostata la cosa ma secondo me è un framework che è sempre più interessante io lo apprezzo molto è in un'applicazione ho usato quello e ho la tendenza di userò sempre quello al momento quindi triangula react view direi che view diventa la mia scelta definitiva nel client server arrest quindi scrivere meno codice possibile qui ovviamente passiamo da un un ambito client server vecchio al nuovo approccio arrest ma con un occhio ovviamente siccome parliamo di Delfi nel riutilizzare tutto possibilmente il codice che è stato scritto ma in chiave ovviamente rest API microservizi e cose di questo tipo porting e modernizzazione di vecchie app qui si parla di un po' di tecniche che sono quelle che sono state usate per fare i componenti ad esempio delle dialogue animate dei pulsanti walking interposer sono alcune cose che si riescono a fare in Delfi per fare in modo di non so utilizzi un button però importi una unit a quel punto il tuo button non è più quello tradizionale ma è un'altra classe nonostante tu non vada a toccare il codice neanche quello che carica a livello visuale cioè tu usi più il pulsante ma in realtà quando lanci l'applicazione quello che viene usato è un'altra unit al posto del vabbè ci sono diverse tecniche per ottenere diversi effetti sempre per andare chiaramente a mitigare il codice quindi anche qui a migrare il codice alle nuove versioni per cui qui devo preparare questa cosa qui per cui io già ho questa più ho qualcosa per i Tidevcon comunque se sai Tidevcon direi che ci si vedrà finalmente là e ti dovrò offrire un sacco di cose visto che ci sei sempre tra l'altro condividi sempre quindi sicuramente gran parte del successo di questo canale direi che potremmo dire che è senz'altro merito tuo anche di anche di tutti quelli che vedo sempre qua spesso che mi fa molto piacere per cui è il motivo per cui poi continuo perché se non ci foste voi io avrei già abbandonato quantomeno quantomeno le live però vedo che comunque su YouTube qualcuno le guarda qualcuno mi dice ti seguo sempre indifferita che io dico vieni in live qualcuno è venuto in live dopo c'è stato bene quindi io cerco sempre di incentivare ma ci sta che dato l'orario dato anche gli impegni c'è chi non riesca ma voglia comunque seguire i contenuti quindi finché io comunque tengo botta anche perché mi diverto mi imparo pure io cose nuove per cui finché riusciamo mi costa un po' perché ogni tanto mi metto appunto qui sulle grafiche a fare delle cose però mi studio anche dei servizi per cui come dire ci sta mi piace e quindi continuerò finché riesco continuo a farlo qua mi è sparito mi è sparito un po' di roba che non vedo più ok e niente mi avvio una musichetta non così alta ma per il finale non quella riesce un po' di nicchia non attira molto è vero però comunque ci sono aziende io ho una slide che ho fatto nel mio talk appunto ad effetto vi ho fatto vedere tutta una serie di ambiti dove ci sono aziende che hanno dei prodotti che stanno maturando da vent'anni e che sono come dire in un certo senso top di gamma nel loro settore e quel software è vent'anni che viene mantenuto quindi ha una gamma di feature che pensare di scrivere da zero è pressoché impossibile ma il software non è vecchio e anche il codice diciamo ha ovviamente delle parti da cambiare ma fondamentalmente è ancora manutenibile e in un certo senso funziona cioè genera revenue quindi nonostante i deficit di nicchia abbia il suo costo quel codice scritto comunque mantiene c'è un canale che vedo che avete consegnato con 33.000 in live ma chissà di cosa si parla sono sviluppatore no lì non andrei a diciamo che fare un ride a questo tipo di canali che magari arrivo con pochi adesso non è per sminuire assolutamente anzi i presenti voi siete tutto quello che ho però ci sta conoscere magari qualche italiano così si fa anche un po' rete magari Atom Blur che questo si ma alcuni streamer sono molto famosi principalmente fanno gaming oppure fanno smr che noi una volta abbiamo fatto un ride a uno che faceva smr che adesso non lo fa più gli ho scritto su Instagram quando è che torni mi faceva troppo ridere comiconato che era un mito niente vi ringrazio di nuovo come sempre facciamo il ride a Napolitano Frontend se c'è ancora non è già andato a letto prima che ce ne vada giustamente a letto vi ringrazio come sempre per la la presenza e il supporto che che mi date quindi vediamo cosa portare la prossima volta adesso un po' di cosine ce le ho ah non vi ho fatto vedere vai ve lo faccio vedere la prossima volta cosa ho messo nella live così se per caso hanno messo anche il filmato non so se si vede ma vabbè ce l'ho ancora qui l'ultimo meme poi dopo ce ne andiamo però ve lo faccio vedere visto che ho ancora l'ide fatto in 5 minuti prima appena prima della live ho messo assieme questa applicazione ho trovato un'immagine del timer di ritorno al futuro gli ho sblencato di scuro ovviamente le parti ho messo con dei font ho trovato il font su internet e ho messo un timer per fargli mettere l'ora quindi le altre date sono fisse in questo caso invece l'ora si aggiorna e poi lanciandolo va praticamente a tutto schermo qui c'è l'orario effettivo e là c'è l'orario che mancava nel talk volevo fargli lampeggiare anche i puntini ma non ce l'ho fatta quindi ho lasciato questo in bella vista perché diciamo che ho pescato molto a piene mani nel ritorno al futuro 5 minuti di orologio perché più trovare l'immagine e metterle giù fondamentalmente il codice è pressoché inesistente quindi trascinato l'immagine ho dato il nome giusto alle label che mi interessavano prendo la data ora decodifico metto ora e minuti perché tanto la data tra l'altro forse è ancora quella sbagliata o quella stessa quindi fondamentalmente non era importante quindi giusto per far vedere che lì c'erano delle persone presenti uno mi ha visto e dice che hai fatto presto a fare quell'applicazione per questo che faccio il talk non per niente quindi diciamo che giustamente è entrato nel mood quindi detto questo come potremmo dire finito basta chiuso vai 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 prepariamo il ride quindi vi ringrazio di nuovo ci vediamo indicativamente prossima settimana se non ci sono controindicazioni come diceva Luttazzi dopo la pubblicità se non durante vi do la buonanotte rimanete per il ride andiamo a conoscere Napolitan Frontend nome molto carico e direi che ci vediamo alla prossima ciao a tutti e grazie mille buonanotte e alla prossima ciao 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 a tutti 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 ciao a tutti